È stata una mia stazione molto sofferta, però alla fine ci siamo riusciti. Siamo qua, siamo anche in un buon gruppo e quindi vi auguro una buona passeggiata, perché di passeggiata si deve parlare oggi. Mi raccomando di rispettare passativamente il codice della strada, ovvero di circolare sulla parte destra della strada. I piedi comunque saranno coperti dalla nostra scorta tecnica, quindi la sicurezza è assicurata, state tranquilli. Alla fine della passeggiata faremo subito la prenazione, proprio di dire che tutti quelli che vorranno cadersi a un anno s'organizzato per dire che tutti ci fanno ammazzare. Grazie per la passeggiata. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.